E' stata presentata questa mattina nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato di Pordenone la mostra Luigi Boille, il segno infinito. Questa esposizione retrospettiva di Pordenone si propone come un percorso significativo attraverso l'arte di Luigi Boille con oltre 140 opere, olie e tecniche miste su tela, tempere e grafiche. La mostra di Pordenone rappresenta la prima grande occasione per uno spazio pubblico di riscoprire un artista che è uno dei maestri dell'arte contemporanea italiana dal secondo novecento fino al primo decennio degli anni 2000 perché Boille era nato appunto a Pordenone nel 1926 e fino agli ultimi giorni lavora nello sviluppo di questa ricerca sulla poetica del segno e si è sviluppata in modo sempre assolutamente imprevedibile ma nello stesso tempo mantenendo una cifra stilistica sempre riconoscibile che credo sia quella dei grandi maestri. Luigi Boille, romano d'adozione, era pordenonese di nascita ed è proprio la sua città d'origine a volergli dedicare la prima grande retrospettiva a pochi mesi dalla sua scomparsa. Siamo particolarmente felici che questa mostra abbia potuto trovare ospitalità e complimento nella galleria Pizzinato quindi credo che sia un omaggio sentito ad un artista veramente grande con l'unico rammarico che lui purtroppo è scomparso da poco e non è più tra noi però gli siamo vicini con questa testimonianza d'affetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.